Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Esatto. Questa sera e quest'anno sono molto importanti per l'arma dei carabinieri e per tutti i cittadini d'Italia. Stiamo infatti festeggiando il bicentenario della nostra fondazione. Questa sera per festeggiare con tutti i cittadini di Napoli, in collaborazione anche con il Forum delle Culture, stiamo regalando a tutta Napoli un bellissimo concerto della nostra fanfare del decimo battaglione campana. Buongiorno a tutti. Per l'arma dei carabinieri quest'anno è un anno particolare perché festeggia 200 anni della sua... Grazie. 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 Grazie.